Sul nostro errore, però a parte la sconfitta, un po' di inesperienza, perché da palla a gol per noi a gol per loro, quindi queste cose bisogna migliorare sicuramente. La sconfitta è l'unica notte negativa della giornata, per il resto la partita ci può dare questi insegnamenti ed è un buon punto di partenza sicuramente. Questo risultato è un po' bugiardo? Un po' bugiardo sì, ma la sconfitta c'è, quindi non possiamo nasconderci dietro, abbiamo meritato di pareggiare, di vigere. Bisogna ripartire da qui, rimane assolutamente gli errori e niente, è ripartire da questa partita.